Sono Beatrice Cecchelli e mi sono laureata a giugno 2020 in Architettura qui all'Università degli Studi di Firenze. Il mio progetto di tesi si è basato su come cambierebbe la progettazione architettonica se la realtà virtuale venisse utilizzata non soltanto in design review ma fin dalla fase di progettazione. Progettare in maniera immersiva permette di avere un feedback continuo su quella che sarà l'opera una volta costruita e quindi immersa nel contesto e vedere fin da subito quanto sia in armonia o meno con la preesistenza. Progettare in realtà virtuale massimizza la percezione degli spazi e inoltre poter creare, modificare, spostare i soliti semplicemente con un gesto fa sì che la progettazione diventi più fluida e intuitiva. In futuro mi immagino che il day-to-day dell'architetto sarà sempre più frivo di appesantimenti tecnici e burocratici, permettendo così di concentrarsi sul processo creativo e compositivo.